Come al solito abbiamo la Kienge che va nei peggiori carceri a prelevare i peggiori criminali per formare la sua squadra speciale, la Suicide Squad, un nome che è tutto un programma. Squadra formata da Maurizio Merluzzo, meglio conosciuto come Capitan Boomerang, Fedez, conosciuto come Blackguard, una tizia arancione che si chiama Mongal, un nome molto poco edificante, non c'è che dire, un Belli Capelli Super Ariano Tetesco, conosciuto come Javelin, uno che se non ho capito male si dovrebbe chiamare come la bibita che beve, un vecchio prossimo al pensionamento o forse alla mommificazione e una delle cose più orride e schifose che abbia mai visto nella mia vita e ne ho viste parecchie, ve lo garantisco, ovvero una sorta di ratto spelacchiato degno dei peggiori telefilm trash giapponesi degli anni 70, chiamato impropriamente Weasel, cioè Donnola, e io se fossi una Donnola mi incazzerei di brutto. Qual è stavolta la missione? Resistere ai conati di vomito guardando Weasel? Ah e poi, come potevo dimenticarla, ovviamente c'è anche Harley Quinn, che è praticamente l'unico motivo per cui la gente è andata al cinema a vedere sto film, credo. Comunque la prima missione non va proprio benissimo, lo schifo peloso non sa né parlare né nuotare e muore affogato ancora prima di cominciare. Andiamo bene! Fedez si rivela essere un traditore e viene sparato in faccia dopo mezzo secondo, muoiono tutti, anche quello che aveva il fantastico e utilissimo potere di staccarsi le braccia, il vecchio se la fa sotto, scappa e quindi viene terminato dalla stessa spietata Chienge per diserzione. E così la Suicide Squad ha mantenuto fede al nome e si è praticamente suicidata in bocca al nemico. In pratica l'unica che sopravvive è Harley Quinn, perché è figa. Ma quella era una squadra fasulla. La vera squadra era in realtà formata da altri elementi. Il cecchino Bloodsport, che è un rimpiazzo copia carbone in tutto e per tutto del Deadshot di Will Smith, dato che dopo il primo film deve essersi guardato bene dall'accettare di fare anche il secondo. John Cena, che interpreta Peacemaker, un ridicolo tizio con un elmetto ricavato dal pentolame della Mondialcasa, che pur di mantenere la pace è disposta a uccidere o commettere violenze estreme o atti illeciti di ogni genere verso chiunque. Boh! Deve essere un demente! King Shark, uno squalo antropomorfo con la stessa intelligenza di Flavia Vento, una millennial svogliata e apatica che può controllare i ratti, e un tizio ultradepresso che può lanciare i pua. In che senso? E anche una tutina tuta tema. E poi c'è anche quello che credo sia il membro aggiuntivo della squadra, il membro di John Cena. No, perché viene inquadrato abbastanza spesso. Comunque, a parte le cazzate sul cazzo, e a parte i punzecchiamenti reciproci sul chi sia il cecchino migliore fra Mondialcasa e Rimpiazzo, la missione di questa improbabile squadra, dal nome ancora più improbabile, è salvare il colonnello Flagg, tenuto in ostaggio dai nemici. Soltanto che quelli che loro hanno massacrato non erano nemici, ma membri della resistenza contro i veri nemici. E lui non era in ostaggio. Insomma, non ne fanno una giusta. La vera missione però è introdursi in una torre, situata in un'isola sudamericana, e far sparire ogni traccia di un progetto alieno che i sudamericani cattivi vogliono usare per distruggere tutti gli americani, tutti tranne Harley Quinn, di cui ovviamente il capo dei cattivoni si è innamorato, perché è figa. Quello però che non aveva considerato è che, oltre a essere figa, è anche completamente pazza. Perciò lei, dopo aver fatto la bella vita, essere stata trattata stupendamente come una principessa, lo uccide. Eh sì, le donne. Mai contente. Ma c'è un cattivo più cattivo, che invece l'ha in prigione e la tortura. Perciò la missione cambia ancora priorità. È già la terza volta. E adesso bisogna prima salvare Harley Quinn. Ma lei non ha certo bisogno di essere salvata, perché ha in sé tutto il girl power. Perciò nessuno la ammazza mai, nemmeno se lo merita. Riesce a liberarsi da sola e a uscire da una situazione impossibile, andando in giro a picchiare uomini e soldati addestrati con estrema facilità. Perché è figa. Sì, vabbè, non guardatela adesso. Catturato il pensatore, questo bell'uomo, fra quelli maggiormente implicati nel progetto Alieno Starfish, lo useranno per entrare nel laboratorio segreto, che però è leggerissimamente vistoso e appariscente per essere segreto. Ehi, ehi, guardatemi! Guardate come mi slancio imponente nell'aria rispetto al paesaggio rasoterra! Guardate come attiro l'attenzione verso di me! Sicuramente nascondo qualcosa di segretissimo! Adoro la pioggia! Sono gli angeli che si fanno una s***a su di noi! Ovviamente riescono a entrare senza problemi e sarà la manifestazione della violenza più totale. La guerra più totale! Nei sotterranei si scoprono orrori da laboratorio e che loro non sono lì per distruggere tutto e salvare l'America e il mondo da una minaccia aliena, ma sono lì per insabbiarla, perché è il governo stesso ad esserci implicato. Al colonnello Flagg, quindi, girano le palle, perché non gli andava di farsi il culo nell'esercito per poi farsi prendere per esso. Così vorrebbe rendere pubblica la cosa e smerdare gli Stati Uniti. Ma Mondialcasa non è tanto d'accordo. L'alterco, però, viene interrotto dal crollo della struttura, causato dalla creatura aliena, Starfish. Nel frattempo, però, Mondialcasa ha ucciso il colonnello. L'hard disk con le prove finisce quindi nelle mani della controllatrice di Ratti. Ma Mondialcasa è proprio uno stronzo. Anziché distruggere semplicemente l'hard disk per far sparire le prove, arriva a sparare agli amici che non la pensano come lui. Perché sono scrupoloso. Verrà però poi fatto fuori dal rimpiazzo. Tiè, così ti impari. Nel frattempo, lo squalone fa amicizia con i pesci, ma i pesci non vogliono fare amicizia con lui e se lo divorano, stroncato dalla sua irresistibile voglia di farsi qualche amico. Che tristezza. Comunque non disperate, perché il nostro squalone sembra essere immortale. Ha perfino resistito al crollo in testa di tonnellate di macerie dovute all'esplosione della torre a causa dell'esplosivo piazzato dai nostri. O forse, più probabilmente, anche dalle flatulenze di Starfish. Comunque non lo sappiamo e non ci interessa. Quello che resta della Suicide Squad è salvo e dovrà vedersela con la stella marina. Una stella marina gigantesca. Ebbene sì. Quindi cosa volete che vi racconti? Il boss finale di questo film è una stella marina gigante che spara piccole fameliche stelle marine che ti si appiccicano alla faccia per controllarti. E così la stellona se ne va in giro a calpestare gente credendosi di essere in un kaiju movie. Ma per la Kienge è tutto a posto. Questo è positivo. Perché d'altronde quel paese era ostile agli Stati Uniti, quindi se c'è un kaiju che distrugge e ammazza tutti è un bene per l'America. Ovviamente, praticamente questa Kienge ragiona come ragionava la nostra per l'Italia. Stessa cosa. Comunque la Suicide Squad si ribella. La Kienge si incazza, anche perché il parrucchiere le ha sbagliato la permanente, si vede benissimo, e minaccia di ucciderli tutti. Ma viene stesa da uno dei suoi sottoposti, che non sopportava più le sue cattiverie. Così i nostri cercheranno di abbattere il colossale mostro. E perfino Mr. Pinko Pallino avrà il suo momento di gloria. Ma schiatterà subito dopo. Alla fine il kaiju stella marina verrà sconfitto da un esercito immenso di topi. E il colpo finale glielo darà ovviamente proprio Miss Girl Power, permettendo ai ratti di penetrare nell'occhione della stellona, ovviamente senza morire affogata. E così i ragazzi, minacciando la Kienge, si sono guadagnati la libertà. E quella schifezza inguardabile di Weasel era invece ancora vivo. Fine! Beh dai, almeno questo è stato divertente. Sarà anche una cazzata fotonica. Ma almeno si ride e ci si diverte di gusto. E non solo per le tonnellate di violenza, un po' sdrammatizzate dalla demenzialità. Ma anche perché il film è proprio ricco di battute. Tanto che se non ci fossero litri e litri di sangue, centinaia di morti violente, sarebbe un film comico riuscitissimo. Un saluto e un grazie a Maurizio Salvatore che me l'ha scovato in rete in buona qualità e me l'ha inviato. Come sempre, un saluto e un grazie a tutti i miei Patreons. E vi ricordo che se volete farmi un regalo in descrizione di tutti i video trovate la mia lista desideri. E detto questo, ci vediamo alla prossima, nella speranza che presto o tardi avremo uno spin-off basato sulla vita di Weasel. Ciao!